Un aquilano di 26 anni è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nella tarda serata di ieri infatti il personale della squadra a volante della Questura è intervenuto presso il terminal di Colle Maggio, riuscendo a fermare in tempo, fortunatamente, un giovane aquilano, residente a Rieti, con numerosi precedenti di polizia, mentre armato di una forbice di circa 22 centimetri di lunghezza, inseguiva un giovane cittadino marocchino, suo coetaneo. La discussione tra i due è sorta all'interno del bar del terminal bus, per motivi legati a situazioni pregresse evidentemente ancora in sospeso. L'aquilano nel diverbio ha reagito in modo scomposto e ha inseguito il marocchino costringendolo alla fuga. Gli agenti di polizia hanno notato poi il giovane italiano inseguire il fuggitivo con il chiaro intento di colpirlo con l'oggetto appuntito che brandiva nella mano, poi rivelatosi essere una lunga forbice. Dunque hanno interrotto l'inseguimento, riuscendo a intervenire e a disarmare l'aquilano prima che portasse a termine il suo proposito criminale. Dopo gli accertamenti di rito il giovane aquilano è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.